e saremo ricchi ragazzi benvenuti altra puntata sul canale oggi ritorniamo qui più carichi che mai sul canale dell'exploraft con il nostro cadgar dragon mage un mazzo così casale che più casuale di così non l'ho mai visto allora continuiamo sinceramente questo mazzo mi piace un casino magari non sarà tiruno ma stiamo in cazzola sono guerriero questa è questo diamo l'evento a questi due no ok allora non sarà tiruno però sinceramente piace un casino credo che la di la varianti che gesti a mazzo comunque rinvenire servitori caso a casaccio così sinceramente un assalto fuori poi che cazzo non l'ho detto tutto sto tempo non ho capito una mazza allora rinute che butto un coin perché mi frega niente non me la posso giocare non ho drag in mano quindi non vedo perché fare coin traumaturga traumaturga non vede il motivo allora wario ha due risse due colpi di scudo e lei la visione fra le gambe leccia praticamente 10 danni raga questa è bellissima tormenta tormenta no no guarda il pirosfera pesante proprio vediamo di fare e che già io lo so quello e l'ho preso in maniera questa cosa calicos pirosfera ma questa è qua per rompere balle in esempio devo trovare un modo di andarcela a togliere non abbiamo non abbiamo modi quindi vieni tu prendiamo una carta se ci vuole elementari elementari non abbiamo danni magici ah bello eh c'è anche perché l'altro non è che ne sapevi finire in realtà eh però beh cazzarò da rimarci due dodici danni lo so è il sogno ma non ok prima bomba dentro seconda bomba dentro eh non è il libro degli spegni no dove ne fai profezia diamo l'armatura buttare la mel ma no perché lui ha l'arma lui ha l'arma ma ah ci pensa lui ad attaccarlo ma secondo me ha sbagliato e che ho la pin ma che cazzo ci sono le dici carte e vabbè io vado di dentro ok ho due bombe dentro quindi su questo ma dovrei ricordare dovrei rischiarmela un po' col libro degli spettri ok in effetti ok in effetti si arriva? si ok potrei fare i coin col 9 9 coin lui con magia gratis e via discutendo allora momento intanto facciamo così e facciamo cadere l'armatura magia gemella il coin salta ma perché facciamo così dovesse fare in un certo senso rissa rimane sempre uno dei miei beh in un certo senso dovesse fare rissa eeeh non ha ho finito niente due guarda ho già tutte queste oh merda va bene allora non è un problema sinceramente io farei così allora se io tolgo questo mi rimane con uno e me lo ricarico eeeh ah ma facciamo anche un'altra cosa aspettate un po' mi sto confondendo allora ah senti vai faccia questo è poco ma sicuro ok toglierei lui per fare tecnocontrollore e ridurre la probabilità di farci danni e questa è bella 7 danni faccia potrei rifarlo nooo ho finito ho sbagliato purtroppo va bene lasciamo che devo farlo sull'altro in realtà allora deve essere fare rissa noi riduciamo il numero di danni delle bombe e la probabilità che è tutto eeeh va a chiederare la minca dona eeeh abbiamo una pirosfera se riesco a prenderla e vai 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 bello vai bello vai bello adesso c'è da lì ti è finita la bandanza eccoci qui altra stella altra stella segnata ragazzi è un mazzo che diverte un casino io ve lo consiglio di giocarvelo di giocare questo mazzo e ve lo consiglio sinceramente comunque ragazzi che dire spero che vi sia piaciuta anche quest'altra partita che dire noi ci vediamo alla prossima non vi preoccupate che porterò presto altri mazzi alla prossima ragazzi grazie